Cari amici, il nuovo mantra della sinistra in questi giorni è che l'Italia non ha veramente fatto i conti con il fascismo, l'hanno scritto sui giornali, su Repubblica in particolare, l'abbiamo sentito dire a trasmissioni televisive come 8,5, l'hanno detto anche molti politici, ma ora io mi domando come si fa a sostenere questa tesi, cioè che l'Italia non abbia fatto i conti con il fascismo. Infatti se c'è un paese in cui non si parla ad altro che di fascismo è proprio l'Italia. Ora noi abbiamo avuto letture e riletture del fascismo da parte degli storici di sinistra che per un certo periodo hanno avuto una specie di esclusiva e poi è anche stato riletto da destra. Per gli anni del primo fascismo abbiamo degli studi fondamentali di Emilio Gentile che spiegano come fosse un movimento ancora senza un'ideologia precisa. Sugli anni successivi abbiamo gli studi fondamentali di Renzo De Felice e poi abbiamo tanti altri lavori di Francesco Perfetti, di Parlato, di Rienzo, di tantissimi storici che hanno sviscerato il tema sotto ogni punto di vista. Quindi sostenere che non abbiamo fatto i conti con il fascismo è una tesi questa che si può sostenere solo per malafede o ignoranza, non c'è una terza soluzione. La destra peraltro ha fatto i conti anche con il peggio del fascismo, cioè le leggi razziali e l'ideologia razzista. Vorrei ricordare che la nuova destra, la cosiddetta nuova destra francese di Alain de Benoît e di tanti altri non solo ha masticato, metabolizzato e sputato fuori il razzismo ma è anche stata sostanzialmente terzo mondista multiculturalista, e certo anche la destra, anche alcune parti della destra lo sono e lo sono state. Ma vabbè, tutto questo pare un universo completamente sconosciuto agli intellettuali di sinistra che vengono insigniti di questo titolo, intellettuali, anche quando mostrano un'ignoranza clamorosa di quello che è stato detto, studiato e pubblicato negli ultimi 50-70 anni.